Grazie a tutti. Questo è l'esperimento che darà a parte sopra. Sai a parte che vuol dire che voi fate un... Allora, dentro questo bidone succederanno cose miracolose, cioè la materia oscura. Che vuol dire la particella? Che dovrebbe essere come scoprire l'elettricità. Ecco, perché come scoprire l'elettricità? Perché sappiamo che c'è, non sappiamo cosa serve. Siamo come i greci quando strofinava la bacchetta d'ambra sul gatto, no? Poi, 1500 anni dopo, 1800 anni dopo, qualcuno ha iniziato a studiarla in profondità senza sapere cosa servisse. Cioè, noi siamo nella fase in cui sappiamo che esiste. Cioè, tutti siamo che esiste. Il massimo di scoperta è stato dagli americani un anno fa, ho capito bene? Che hanno detto, noi arriviamo fino a qui. Prima eravamo primi noi. Sì, però non c'è questo progetto per 10 anni. E gli americani ci hanno superato. Abbiamo spostato il limite un po' più. Noi adesso non spostiamo il limite o addirittura facciamo la scoperta. Voi quindi. Quelle due 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 wa?